Il vento forte di Scirocco e le trombe d'aria degli scorsi giorni hanno sferrato un altro duro colpo all'agricoltura pugliese. Le province di Bari, Batte e Foggia sono le più colpite, ma le raffiche non hanno risparmiato il resto della regione. A lanciare l'allarme, la Confederazione Italiana Agricolturi Puglia, a risultare gravemente compromessi, scrivono dalla CIA, sono soprattutto i comparti cerasicolo e dell'uva da vino e da tavola. I tappiti di ciliegie nelle campagne del Barise, ormai in fase di raccolta, sono l'emblima dei danni provocati dalle ultime avversità atmosferiche. I giovani tralci delle uve da vino sono stati spezzati e così le uve da tavola. In provincia di Bari, in tiri i vigniti sono stati distrutti dalla tromba d'aria di giovedì e in molti casi i teluni sono stati divelti dagli impianti. In provincia di Foggia, la tempesta di vento scatenatasi nella notte tra mercoledì e giovedì ha danneggiato soprattutto le uve bianche. Sono stati riscontrati danni anche nei vigniti con la doppia rete dove i tralci sono maggiormente protetti. Tra i comuni più colpiti, Poggio Imperiale, Lesina, Torre Maggiore, San Severo e San Paolo di Civitate, il forte vento ha spezzato rami di ulivo e abbattuto alberi in tutta la regione procurando danni a fruttiti serre e capannoni. Abbiamo chiesto il riconoscimento dello stato di calamità in deroga alla legge 102 del 2004, afferma il presidente regionale CIA Puglia Raffaele Carrabba, ma ora più che mai, come più volte richiesto alla luce dei repentini cambiamenti climatici, occorre una riforma della legge che risulta anacronistica e ormai inadeguata. La CIA propone di costituire un fondo assicurativo per tutelare le aziende agricole dagli eventi naturali e dalle crisi di mercato, in parte coperto dalla fiscalità generale ed in parte dai fondi del PSR, di svincolare gli agricoltori sui rischi da assicurare e di ridurre le franchigie. Anche il sistema assicurativo infatti pare non aiuti, i costi elevati e le condizioni inaccettabili proposte dalle compagnie e scrivono dalla CIA non incentivano gli agricoltori ad assicurarsi. Le continue avversità atmosferiche e le condizioni di mercato imposte dalla grande distribuzione organizzata non permettono di sostenere anche questi costi. Da qui un ulteriore appello al Ministero per le politiche agricole affinché si affronti in maniera strutturata il tema dei danni da calamità naturale alla luce dei cambiamenti climatici che si stanno manifestando in tutta la loro forza. La CIA si rivolge all'amministra Teresa Bellanova affinché metta in campo una riforma del sistema del risarcimento dei danni da calamità e da crisi di mercato con regole semplici ed in grado di rispondere immediatamente alle esigenze degli agricoltori. Non è oltretutto più possibile proseguono dalla Confederazione subordinare le vite degli agricoltori a tempi burocratici biblici. Basti pensare, conclude il presidente regionale CIA Puglia, che sono trascorsi oltre due anni dalle nevicate gelate del febbraio 2018, più di tre da quelle del gennaio 2017 e gli agricoltori stanno ancora aspettando la chiusura dell'istruttoria delle domande da parte dei comuni.